o oggi andremo a fare la vera carbonara sanno una sega romana ea roma come si fa a fare la carbonara vedete gli sbagliano ci mettono i peorino ceole il parmigiano poi mi raccomando un grosso errore è quello di usare il guanciale ceole diciamo invece ceole i bacon l'americano quello l'ercio con le mani si piglia si mette nello scottese una volta messo in questo scottese in questo foglio si va diciamo assorbire l'unto il bisunto l'unto capito e va messo nel mio onde tanti gli sbagliano lo fanno soffriggere lo fanno cocere no ceole in microonde 5 6 minuti a massima potenza in modo che le radiazioni vanno a diciamo allessare questa pancetta ma vediamo dopo la cottura vedete lo scottese gli assorbito che spettacolo ragazzi questa si cadia una carbonara questa si vedete ci si va ad aggiungere questo pepe e si mescola gli si rimesta diciamo tutto l'insieme vedi pancetta e ova a crudo spaghettino mi raccomando non fate mai bollire non fate mai quell'errore di bollire l'acqua prima e metti la pasta dopo no perché bisogna mettere gli spaghetti e l'acqua assieme vanno assieme non sta non fate l'errore fanno in italia perché sono delle fave gli italiani non sanno fanno una sega come si fa cucina la pasta e se rimette tutto nei microonde essenziale perché mi ronde anche una cucina più salutare fa meno male tanti friggano hociano le pentoli tegame il forno ci voleva invece il forno a microonde perché è studiata è una cosa studiata le microonde le più leggera via gli è più leggera o vedete atti 8 5 minuti 8 5 8 minuti a massima potenza sempre a massima potenza un forno della handy della handy handy vedete come giri piatto gira 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 perché sta cuocendo quando rigirava di che osce se un girasse un cuocerebbe vedete ai dente perfetto ragazzi lui sa questa sì che è una carbonara ma sanno una sega a roma ci mettono il guanciale ci mettono il peorino fanno bollire l'acqua prima la buttano dopo la pasta che si può poter buttare la pasta dopo una bella rimestata e voilà ragazzi la carbonara è quasi pronta ma manca ancora un tocco un tocco di magia ma ci ha portami via vediamo un pochino vedete lui sa rimestagnare lui sa ragazzi vedete bisogna andare aggiungere adesso il tocco di classe il parmigiano con le mani vedi con le mani direttamente con la mano a ragazzi questa sì che gli è carbonara ora vai a roma insegnargli per si fa a fare la carbonara si fanno coce la pasta ma sanno una sega